Buongiorno a tutti gli amici di Onda Libera. In questa edizione del Tg intervisteremo il nostro ormai ex cappellano Padre Enrico che ha prestato per tanto tempo servizio qui da noi alla casa circondariale di Villa Fastigi. Cominciamo proprio a chiedergli da che parrocchia proviene e per quanto tempo ha prestato questo servizio. Provengo dalla parrocchia San Francesco di Fermo. Prima di venire qui ero nella parrocchia di San Francesco di Fermo e sono venuto a fare questo servizio inviato dai miei superiori e ho iniziato questo servizio nel 2009, quindi otto anni fa. e ho iniziato questo servizio diciamo partendo da zero come esperienza dentro una casa circondariale. Bene, in questi anni, in questo lungo periodo, pensa di essere riuscito nella sua missione di trasmettere qualche cosa e se è soddisfatto di questa missione che sta compiendo? Il compito di un cappellano come di ogni sacerdote che esercita il suo ministero in qualsiasi situazione, in qualsiasi parte è quello di seminare, di annunciare la parola di Dio senza preoccuparsi troppo, dei frutti da raccogliere perché i frutti non sempre si vedono ma sicuramente ci sono forse più nascosti, meno nascosti però se io devo dire i frutti, se ho visto dei frutti in questi otto anni di servizio devo dire sicuramente di sì alcune situazioni, alcuni detenuti mi hanno fatto proprio piacere sentire le loro testimonianze, i loro racconti, i loro cambiamenti. E ora ci può raccontare due episodi emblematici che hanno caratterizzato un po' la difficoltà più grande che ha incontrato e la gioia più grande alla quale ha assistito? Partiamo dalla gioia più grande uno degli obiettivi che siamo riusciti a portare avanti e a realizzare in tempi più recenti forse è stata la festa, un episodio, insomma la giornata festa insieme organizzata insieme ad alcuni volontari in particolar modo il diacono Paolo Scavolini con il suo gruppo di rinnovamento dello spirito qui di Pesaro con cui si è riusciti a realizzare davvero una bella cosa una bella manifestazione di vicinanza vorrei dire anche di affetto nei confronti degli ospiti di questa casa circondariale è stata una festa che ha implicato tanta preparazione trattandosi di una casa circondariale tante autorizzazioni ma alla fine ci siamo riusciti ed è venuta fuori veramente una bella cosa la difficoltà più grande la difficoltà più grande all'inizio sono partito da zero quindi entrando in un carcere in una casa circondariale sapevo che non era una normale casa dove tutti noi abitiamo ma una casa particolare dove il primo impatto è stato un po' di grande attenzione per non andare fuori binario dal mio predecessore mi era arrivata la raccomandazione di essere guardingo specialmente i primi tempi fino a che insomma è arrivato il momento in cui ecco conoscendo persone conoscendo regolamenti interni alla casa circondariale e insomma ho iniziato ad essere abbastanza autonomo quindi sostanzialmente la differenza tra essere cappellano in carcere che è un po' un mondo a sé diciamo e essere fuori in che cosa consiste? proprio dal punto di vista pratico Allora l'essere cappellano o parroco esercitando questo ministero questo servizio al di fuori del carcere quindi nella vita possiamo dire nella vita ordinaria nella vita libera ci sono tante di quelle cose da fare che uno arriva alla sera e dice ma ne ho fatte pochissime rispetto a tutte quelle che si potevano fare basti pensare i catechismi dei bambini dei ragazzi gruppi giovani gruppi giovanili sono tante e poi il mondo degli adulti e i catechisti ci sono tante dinamiche nella vita di una parrocchia che è sicuramente diversa dalle dinamiche della vita dentro una casa circondariale e nella casa circondariale l'incontro con i detenuti sicuramente lo pensavo più difficile di quello che poi si è manifestato e questo e questo proprio da subito da subito mi era stato detto di fare tanta attenzione io non ho trovato questo tipo di difficoltà proprio per niente quindi passiamo alla domanda seguente quindi lei è entrata in contatto con diverse realtà detentive ecco rispetto ai detenuti considerati quelli più pericolosi ecco lei che tipo di visione ha li reputa comunque meritevoli di fede oppure per i crimini che hanno commesso li inquadra in maniera un po' differente già da subito mi ero prefissato questa cosa se io devo andare a cercare che tipo di reato avessero i detenuti e in base ai loro reati mi sarei mosso avrei sbagliato da subito per me non ha costituito nessuna pregiudiziale l'essere venuto a conoscenza diverse volte sono venuto a conoscenza dei tipi di reati dei detenuti ma per me non ha costituito nessun problema ma circa l'impatto con i detenuti stessi penso di non aver mai chiesto se è capitato proprio occasionalmente di chiedere che tipo di reato avesse commesso il determinato detenuto per cui io mi sono sentito paradossalmente molto libero nel dialogare con qualsiasi detenuto perfetto ora un'altra domanda questa esperienza la vede arricchito c'è stata un'esperienza che ne è valsa la pena ne è arricchito da questo suo cammino io nella mia esperienza di sacerdote e di religioso ho ricoperto diverse manzioni sia di parrocchia come anche di seminario e poi qualche altra cosa ancora e mi son detto dopo poco tempo dopo che avevo iniziato questo servizio mi son detto questa esperienza mi mancava e mi ha e mi ha arricchito mi ha fatto riflettere soprattutto su questa cosa il carcere con il suo contenuto rappresenta una porzione una parte della società di fronte alla quale nessuno può sentirsi scevro da responsabilità si vive una società un contesto di società violenta arrogante che si potrebbe dire l'un contro l'altro armato tante volte una società in cui il senso della famiglia il senso del rispetto delle persone delle cose è molto è molto diminuito anche un po' la desacralizzazione io quello mi permetto di dire la desacralizzazione delle cose dei valori più grandi che hanno costituito per tanti secoli il perno il fondamento delle società che si sono succedute ecco che oggi tutto questo anche e soprattutto a causa di mass media ha una risonanza molto più vasta per cui diciamo i detenuti che vivono nelle nostre carceri sono figli di una società non solo imperfetta ma di una società veramente malata e tutti dobbiamo contribuire a che le vittime perché io le chiamo vittime di questa società debbono essere aiutate a venirne fuori dalla loro situazione di difficoltà e di disagio e vorrei dire questo ma non per discolpare nessuno per il contrario a questo punto c'è una domanda di un nostro amico Tommaso buongiorno padre è possibile che io ero ero ateo ero ateo fino a tre anni fa perché ho perso una sorella proprio nel periodo natalizio e dalla primo giorno che sono qua il mio vero dio è mia sorella e non dio credo solo è mia sorella Veronica le volevo dire io ero ateo dalla perdita di mia sorella adesso vengo alla messa dal primo giorno che sono qua tutto quello che mi viene dato secondo me è merito di mia sorella e credo in un solo dio che è mia sorella che è lassù è possibile credere a mia sorella e non a dio la domanda è di una portata enorme si possono dare tante risposte io mi permetto di dire questo difficilmente noi arriviamo a dio direttamente no? come pensiero come convinzione come consapevolezza ma arriviamo a dio ci accorgiamo della presenza di dio attraverso situazioni attraverso fatti attraverso fatti dolorosi o anche fatti gioiosi più delle volte è possibile che tu creda in tua sorella che è in cielo vicina a dio è come se tu dicessi io arrivo a dio attraverso mia sorella non so se la risposta può essere ed è apprezzabilissimo l'idea che tu riconosca in tutto quello che hai ogni giorno per quanto sia poco quello che hai ma è tanto e ti arricchisce e ti fa esprimere questa gratitudine per le cose per le cose che hai per tua sorella che ringrazia dio per avertela data più che incolpare dio per avertela tolta penso ecco e questo può darci paradossalmente dico una una bella pace una grande pace e ci aiuta a gustare davvero le cose che abbiamo grazie padre e per ora è tutto un grazie a padre Enrico per la sua disponibilità e un saluto a tutte quante il nostro pubblico grazie a tutti